Madonna, quanto sei buono! Questa canzone si basa proprio sull'interpretazione della parola, delle parole. Quindi ogni parola, come io la sento, proprio va cantata con il suo peso. Bene. Chissà poi se uno ci riesce. Ma guarda, io sai che... Provare, 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 provare! Provare, provare, riprovare! Beh, lo scopo della vita è quello di andare avanti e superare le prove. Applauso! Nella prima fase della mia carriera, delle canzoni, dei dischi, credevo che pur di riuscire a fare quelle note che io avevo qua, dovevo mettere le parole al servizio delle note. Poi crescendo tu... Hai capito che ricontra... Vuoi dire delle cose... Sennò poi c'hai i vocalizzi, no? E cominci a dare... Esatto! E vuoi dare importanza alle parole, e allora ho cominciato a mettere la melodia al servizio della parola. La quinta volta a Festival di Sanremo, si recidivo oramai, la prima volta che ti ricordi hai? Io arrivai su quel palco proprio ragazzina, sono passata dai club dove mi esibivo col mio gruppo, a questo palco importantissimo, e mi ricordo il cameraman che mi disse non puoi cantare tutto il tempo con gli occhi chiusi, mi devi guardare, è la TV, era diversa, dovevo imparare delle cose, però sai, sempre con l'incoscienza un po' della ragazzina. E qui per esempio, ricordo, avevi sempre questa capacità di rasserenare, cioè io ti guardavo e già dicevo vabbè, ok, tutto bene, va bene, si può fare.